Il progetto che abbiamo realizzato è stato battezzato Centri Storici Digitali, Borghi Digitali. È un progetto che ha coinvolto una trentina di comuni della Romagna, del territorio dell'altra Romagna. Abbiamo installato circa 240 antenne wifi che permettono il collegamento gratuito degli utenti che possono essere i residenti e i turisti e che possono collegarsi liberamente e gratuitamente alla rete in modo tale da poter scaricare la posta elettronica per poter navigare e in seguito realizzeremo un'app per ogni comune che spiegherà le storie, le traduzioni, i prodotti di ogni singolo territorio. Questo è un progetto che complessivamente è costato oltre 400.000 euro e prevede l'attivazione in ogni comune attraverso delle antenne wifi, del sistema Intel e quindi di una navigazione veloce e gratuita per tutti gli abitanti di questi territori e poi anche la possibilità da parte dei turisti o comunque coloro che vengono a visitare i nostri comuni la possibilità di accedere a tutte le informazioni che successivamente attraverso app con la collaborazione dei comuni, dell'APT e naturalmente dietro la supervisione dell'altra Romagna riusciremo a mettere in campo come informazione anche di carattere generale, di carattere turistico, storico e anche di informazioni utili per tutti i cittadini. Qui siamo nel comune di Sarsina, qui abbiamo installato 5 antenne wifi per 3 punti di snodo, uno è qui sotto il palazzo municipale e adesso proviamo a fare il collegamento che farebbe il turista o il residente che vuole collegare. Andando in impostazioni è possibile trovare le reti wifi disponibili, scegliamo la rete Altra Romagna, scelta la rete Altra Romagna viene trovato come viene evidenziato, ci si collega alla rete, collegandosi alla rete appare la schermata di Federa, chiediamo di ottenere un'utenza definitiva, per registrarti clicca qui, una volta cliccato appare l'elenco di tutti i comuni che sono coperti, ovviamente è un elenco molto lungo, ce ne sono i comuni che ha scoperto Altra Romagna, poi ci sono tutti gli altri comuni che sono stati coperti in altro modo, scegliamo il comune di Sarsina, PQRS Sarsina dovrebbe essere qua, eccolo qua il comune di Sarsina, visualizziamo i dettagli, ecco qua, chiederanno altre informazioni, clicchiamo registrati, ecco è fatto, username, email, domanda password, nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, telefono, altre informazioni, avanti, questa registrazione poi sarà valida non solo per i comuni di Sarsina, ma per tutti i comuni di Federa e della regione Emilia-Romagna. Siamo veramente contenti perché qui a Sarsina finalmente abbiamo il Wi-Fi, diciamo che è uno di quei servizi fondamentali perché Sarsina diciamo che essendo anche una città soprattutto a vocazione turistica era un servizio indispensabile, voglio, coglio l'occasione per ringraziare i miei collaboratori che hanno lavorato veramente tantissimo questo progetto, il GAL, ci tengo a precisarlo, e anche i miei uffici.